The New Stories. La tua informazione libera. Perfetta per i giovani che cercano sapori autentici senza perdere troppo tempo in cucina, la carbonara di Heinz è una versione pronta all'uso di uno dei piatti più iconici della tradizione romana. Gli ingredienti restano quelli classici, uova, carne, formaggio e spezie, per una ricetta che promette di non rinunciare al gusto. Il lancio sul mercato è previsto per settembre 2024 con un prezzo di circa 2 pound, meno di 2 euro e 50 centesimi, a confezione. Tuttavia, mentre il prodotto sembra essere molto atteso da una parte dei consumatori internazionali, potrebbe suscitare critiche tra i cuochi italiani che potrebbero non vedere di buon occhio questa rivisitazione in chiave moderna di un piatto così tradizionale. Grazie a tutti.